L'INAIL ha riconosciuto la prima vittima sul lavoro provocata da Covid-19. Questo caso, il primo in Piemonte, potrebbe aprire la strada ad altre situazioni analoghe. Antonio Sgobba. Lavorava in un grande ospedale torinese e morto a marzo dopo la terapia intensiva. E' il primo caso in Piemonte di infortunio mortale sul lavoro causato dal Covid-19 e riconosciuto dall'INAIL. Lo ha segnalato Daniele Bais, direttore della sede Torino Nord dell'Istituto. Alla famiglia andrà una pensione permanente per i superstite e andrà un assegno che compenserà le spese funerarie e verrà poi corrisposto a fondo una tantum per le vittime dei gravi infortuni sul lavoro. E' il Decreto Cura Italia a prevedere che nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro ci sia l'iscrizione nel registro dell'INAIL come infortunio. Da un punto di vista legale possono essere accertate anche le responsabilità del datore di lavoro, come spiega l'Avvocata Giulia Druetta. E' necessario però che poi si verifichi se il datore di lavoro ha predisposto tutte le misure di sicurezza al fine di limitare il rischio al minimo. Credo che ci sia molto lavoro ancora da fare e la Regione, l'INAIL e i competenti devono intervenire nei controlli perché senza controlli non si arriva da nessuna parte come ben sappiamo.